televisione magalli anna falchi rancorosa perché non l'ho mai voluta intervistato a nuovo tv giancarlo magalli si è raccontato senza filtri parlando anche del rapporto con anna falchi e michele guardi by luca fabbri pubblicato su 21 ottobre 2023 giancarlo magalli dopo esser rimasto lontano dal piccolo schermo a causa di un linfoma alla milza sottoponendosi a chemioterapia radioterapia e fisioterapia e attualmente ospite fisso ai fatti vostri programma ideato da michele guardie che ha condotto per la bellezza di 21 edizioni nel talk show mattutino oggi condotto da tiberio timperi insieme ad anna falchi e flora canto magalli si occupa di una rubrica volta a raccontare quegli uomini che con il loro contributo hanno avuto un impatto positivo sul corso della storia intervistato a nuovo tv giancarlo magalli ha raccontato la difficoltà nel rientrare nel giro televisivo e non solo il rientro in tv e l'aneddoto su anna falchi la difficoltà nasce dal fatto che i tuoi format sono stati fagocitati da altri per me non c'era più niente ho faticato per ricominciare ha spiegato giancarlo magalli parlando della difficoltà incontrata nel rientrare nel giro oggi come accennato è ospite fisso ai fatti vostri e ha un ottimo rapporto con flora canto lo stesso non si può dire dell'altra sua collega ovvero anna falchi non abbiamo un rapporto affettuoso anna è una grande portatrice di rancori il conduttore ha quindi motivato il tutto raccontando un aneddoto ormai lontano nel tempo nel 1999 io conducevo domenica in e lei arrivò a metà anno per sostituire valeria mazza con un atteggiamento spavaldo ingiustificato per il suo curriculum un giorno in diretta raccontò di sua iniziativa una barzelletta sporca a fine puntata la presi da parte per rimproverarla e lei rispose che era abituata improvvisare le dissi che non doveva improvvisare ma pensare non me l'ha mai perdonato e io non l'ho mai più voluta nei miei programmi il rapporto con michele guardi quando gli è stato chiesto se avesse problemi anche con michele guardi nonché ideatore dei fatti vostri magalli ha spiegato di non aver mai litigato con lui ho solo espresso un certo rammarico perché quando girava in vari programmi per parlare del suo libro citava come conduttori dei fatti vostri frizzi e castagna mai me ha confessato il conduttore ha poi fatto maggiore chiarezza sulla vicenda lui aveva capito che salvo sottile che ha condotto le ultime due edizioni del format mi soffriva e per non disturbarlo non mi citava mai allora dissi se per farsi citare da guardi bisogna morire allora va bene che non mi nomini ogni volta che apro bocca dicono che sparo a zero però non è mai veramente così maggiore Grazie a tutti.